Episodio 4 del corso di Laravel, oggi parliamo del pattern MVC, Model View Controller. Questa è una piccola grafica che ho fatto io, che però vedremo più avanti in questo video, perché cominciamo da qualcosa che prendiamo online di più semplice. E io ho selezionato questa immagine, che mi sembra abbastanza semplice. Perché? Perché l'immagine che ho fatto qua è un po' più sul funzionamento di Laravel in generale, non solo Model View Controller, ma un po' più in generale. Quindi partiamo da uno step più semplice, più iniziale, e vediamo di cosa si tratta. Allora, quando parliamo di pattern, parliamo di qualcosa che si ripete, qualcosa che è utilizzato. Pensate una gonna a scacchi, pensate un vestito con stampato sopra la faccia di Homer Simpson tante volte, eccetera. Quello è un pattern, ok? Le carte regalo per impacchettare regali, quello è un pattern. Pattern, pensate ai giri gori sui quaderni, oppure sulle piastrelle. Si chiamano pattern, quindi sono cose sempre uguali, ripetute. Che cosa vuol dire pattern a livello di codice? Per pattern a livello di codice si intende un modo di programmare, un modo di scrivere codice. Quindi un modo in cui dividiamo i nostri file, dividiamo le nostre cartelle, andiamo a scomporre il nostro progetto, andiamo a scrivere i nostri file, gli diamo dei nomi, eccetera, eccetera. Non è una cosa incastonata nella roccia, potete fare sostanzialmente quello che volete. In realtà Laravel funziona MWC, perciò in quel caso sì, è incastonato nella roccia. Però diciamo che sono convenzioni che sono nate, che si sono modificate, eccetera. I pattern, diciamo così, sono generalmente i migliori modi di approcciare determinati problemi. Ce ne sono diversi, però quelli sono. È improbabile che voi inventerete qualcosa di nuovo. Generalmente la programmazione in giro da tanto, sono problemi comuni che sono già stati trovati e già risolti in questi modi di programmare. Che si chiamano appunto pattern. Il pattern di Laravel è il pattern MWC, dove M sta per model, lo vedete qui. V sta per view, che è la vista, quindi il modello, la vista e il controller, che è il controllore. Ok? Che cosa succede? Succede che andiamo a scomporre la nostra applicazione in tre macro personaggi, chiamiamo così, tre macro mattoncini, che si occupano di tre cose diverse. Quindi voi vi aspettate che quando andate su un sito e fate magari un form, vi aspettate di vedere il form, in primis, vi aspettate di inserire i dati, mandare il form con invio, quindi faccio invio. Il form viene processato, i dati sono corretti, non ci sono problemi, eccetera. Vi aspettate che il vostro utente venga creato e che poi voi vediate magari la pagina privata, la pagina personale dell'account. Dico bene? Quindi, sono state fatte delle azioni, un'azione sostanzialmente noi ci vediamo, ci aspettiamo di trovare determinate cose. Quindi vedete questo è il nostro utente, che ha compilato il form tramite una view precedente, che era il form. Ha mandato la richiesta di essere registrato. È stato controllato che i dati fossero veritieri, che non fossero vuoti, eccetera, eccetera. È stato inserito nel database e poi mi è stata mandata la pagina con grazie per esserti iscritto, quello che volete. Va bene? In questo caso, come notate, ci sono diverse cose sotto. Bisogna verificare il form, bisogna inserire nel database e bisogna mandare a schermo qualcosa. Quindi, capite bene, io sono l'utente, faccio una richiesta, vedete qua faccio una richiesta, che verrà presa in carico, qua è molto semplificato, qua lo spiego leggermente meglio, ma funziona sostanzialmente così. La richiesta, in un modo o nell'altro, arriva al controllore. Il controllore dice, ok, questa è la richiesta dell'utente, qualsiasi essa sia. Facciamo il nostro form. Mi sono arrivati dei dati dal form. Verifichiamo che sia tutto corretto. Perfetto. Una volta che il controllore ha verificato ed è dove c'è sostanzialmente della logica, della logica di autenticazione, quello che volete, passa poi i dati al modello. Il modello, sappiamo benissimo, perché l'abbiamo già visto, anche se lo vedremo meglio, è l'astrazione del database. Quindi noi non lavoriamo a contatto col database, con le query, ma abbiamo detto che utilizziamo Eloquent ORM e in altri pattern, scusatemi, in altri framework avremo altri ORM. Però non cambia il discorso. Avremo sempre questo modello, che sarà ad esempio utente, e come vedremo più avanti nel corso, quest'utente ci permette di eseguire operazioni sul database senza che noi andiamo effettivamente a lavorare a contatto col database, con SQL, altre query, eccetera. Ok? Quindi i miei dati vanno al controller, li verifica, li manda poi al modello. Il modello, pensate proprio al modello, ma non una persona che sfila, proprio un modello di fattura, un modello di... sempre qualcosa uguale stampato. Se siete studenti, pensate alle verifiche che vi vengono date agli esami. C'è un modello prefatto che viene stampato e vi viene dato. Ok? Quello è un modello. Quindi, in base al modello dell'utente, i nostri dati vengono inseriti, vedete qua request data che entrano, vengono inseriti poi nel database, vengono rimandati al controller, il controller dice Ah, sono stati inseriti con successo? E allora io i dati li passo alla view, che è la vista, che è ciò che noi vediamo, view è vedere, ok? E li mandiamo all'utente. E quindi l'utente vedrà la pagina, che è la nostra vista, che gli dice, ah, sei stato iscritto, benvenuto nella tua area privata, eccetera. Ok? Quindi, ricapitoliamo. Il controller è ciò che controlla la richiesta in arrivo, la gestisce, fa qualcosa. Manda poi tutto al modello, che è ciò che interagisce col database, che rimanda indietro al controller, che dice, ok, puoi mandargli la vista. E effettivamente ci manda la vista, e noi vediamo la vista, ok? Quindi, model, view, controller. Lo so che per come l'approcciamo sarebbe controller, model, view, però mvc si scrive così. Se capite questo pattern, che poi è un po' più complesso, infatti adesso andiamo di qua, se capite questo pattern, ripeto, una volta che capite l'Aravel, capite la stragrande maggioranza dei framework che ci sono in giro. Poi tutto il resto è solo il linguaggio di programmazione specifico. Ho fatto però una versione un po' più complessa. Perché? Perché almeno mi risparmio di rifarvi video teorici del genere, con le faccine, più avanti per ogni singola cosa. Quindi ho fatto un qualcosa di un po' più grande, per farvi capire perché, perché dal prossimo video parleremo delle routes. Di conseguenza, volevo farvi avere appunto una visione generale un po' più complessa. Dunque, abbiamo il nostro amico. Fate il vostro amico Luca Rossi, ok? Il nostro amico Luca Rossi manda il nostro form dove ha slash form registrazione, ok? Quindi prima di arrivare al controller, io sono passato qua, vedete, su SketchUp, slash it, eccetera. Potrei aver mandato un form, potrei aver fatto altre cose. Questa è una richiesta, va bene? Una richiesta HTTP, dovreste saperlo, mi raccomando, a questo livello. La richiesta deve essere instradata, va bene? Perché comunque passa su internet, arriva al server, bisogna capire chi deve gestirla. Quindi il controllore, ok? Il controllore deve fare qualcosa, ma io devo capire a che controllore mandarla, va bene? Pensate magari a la stazione, siamo alla stazione di Milano, quello che volete, ci sono vari sportelli, oppure siamo all'ospedale, ci sono vari sportelli, e questi vari sportelli fanno cose diverse. Sono i nostri controller, va bene? Ma per capire a che sportello andare, veniamo indirizzati dalla persona che è fuori in portineria, veniamo indirizzati dalla macchina, veniamo indirizzati più avanti dall'intelligenza artificiale, prendi il numerino categoria A, A1, A2, oppure prendi il numerino categoria B, C, W, eccetera. Questo è l'instradamento, quindi il nostro utente fa una richiesta, potrebbe essere slash about, slash chi siamo, slash inserimento, slash registrazione, slash login, quello che volete, e questa richiesta viene instradata. Chi è che si occupa di questa richiesta? Io mi occupo delle richieste slash registrazione, o io mi occupo delle richieste slash post, io mi occupo delle richieste slash utente. Ok, quindi il nostro utente viene, la sua richiesta viene poi reindirizzata, il route è l'instradamento, quindi viene instradato sul controller specifico. E allora qua il controller di slash registrazione sa che gli sta arrivando dei dati di registrazione, sa che deve andarli a verificare, va bene? Di conseguenza è rilevante che il controller prendete, ogni controller o quasi ogni controller parlerà con il model, è la stessa cosa che abbiamo visto qua. Il model parla col DB, rimanda poi indietro, dice A, ho inserito, il controller dice A, ha inserito, e allora ti mando la view, e qua l'utente poi vede una view specifica, ok? Stessa cosa di cui abbiamo parlato qua, semplicemente abbiamo giunto il route. Il route è la strada specifica che prende ogni singola richiesta. Però vedete che qua c'è un middleware. Il middleware è, middle è qualcosa che sta in mezzo, di conseguenza è come se fosse un uomo di mezzo, un intermediario. Non è detto che esistano i middleware, ma potrebbero esserci. Alcuni dei middleware, uno sicuramente dei middleware che vedremo, saranno i middleware dell'autenticazione. Quindi ad esempio, io vorrei andare su il mio sito .it slash dashboard, che è l'area privata, ma se io vado su slash dashboard se ne occupa questa, che però prima che arrivi al controller che mi manda i dati a schermo, mi dice, questo middleware fa il controllino e mi dice, sì ma tu non sei loggato, e allora qua dentro tu non ci arrivi, ok? Mentre invece, se sei loggato, ci arrivi, manda la richiesta, prendi i dati, ti manda a schermo la dashboard con i dati. Quindi cosa succede? Che i middleware sono degli intermediari che si mettono prima, e noi molto spesso utilizzeremo appunto per le zone sensibili, per ogni pagina sensibile andremo a mettere il middleware. Prima che la richiesta arrivi al controller, il controller sa solo fare il suo mestiere, il controller se tu mi dici che vuoi una pagina, io ti do una pagina. Quindi se arriva anche una persona che non è autorizzata, io non lo so. Ed ecco perché arriva il middleware che dice, controllo io se sei autorizzato. Il route si occupa solo di instradare. Voi pensate a delle persone, pensate a queste persone come se fossero veramente persone a cui non gliene frega niente, ok? Voi andate, route, si salve, buongiorno, devo andare alla dashboard, sì prego, dai. Dai che lunedì, forza, non c'ho voglia. Perfetto. Dopodiché andiamo al controller, sì, guardi, io ho bisogno della dashboard, sì, guardi, non me ne frega niente. Dai, su che lunedì, adesso gliela mando. Mentre invece abbiamo il middleware che è l'unico che ha voglia di lavorare qua dentro, che arriva e ci dice, ehi, fermo, benissimo, hai superato il primo controllo, bene. Sei loggato? Sì, no. E allora poi vediamo cosa fare. Quindi questa è la versione, potrebbe essere anche la versione discoteca del pattern MVC o anche degli API in generale. Quindi qualcuno che controlla se avete il timbro, il braccialetto, quello che volete. Poi qua sotto abbiamo cose che abbiamo già accennato. Le migrations, le factories e i seeders. Sappiamo che le migrations sono la struttura, vanno a modificare la struttura, anche se non l'abbiamo ancora vista nello specifico. Sappiamo che le factories generano dati fittizi e i seeders li inseriscono. Quindi le migrations, noi mandiamo una migration per modificare la struttura del DB. Aggiungimi una colonna, aggiungimi un campo, toglimi una tabella, aggiungimi una tabella. E quindi vedete che lavora a stretto contatto col DB. Poi abbiamo le factories che non lavorano a contatto col DB perché semplicemente generano cose, ok? Si occupano della generazione dei dati. Ma vedete, basate su cosa? Sul modello dei dati. Quindi questo modello è fondamentale nel MVC, nel pattern MVC. Model, View, Controller. Perché? Perché il model è esattamente la rappresentazione un po' più capibile di ciò che c'è qua dentro. Quindi in base al model io genero i dati che poi vado a inserire nel DB, ok? Come vi ho detto ci saranno altre cose, potremmo avere i service provider, potremmo avere le policies, potremmo avere altri costrutti. Ma questa è di norma. Allora, questa qua è la versione semplificata del Model View Controller. Vedete? Versione semplificata. Questa è la versione un po' più realistica, ok? Con i route, middleware, eccetera. In realtà qua c'è proprio come funziona l'Aravel, anche se mancano dei pezzi. Quindi potremmo andare a complicarlo un pochino. Quindi direi che questo è quanto. Dovrebbe essere tutto chiaro. Adesso che avete la rappresentazione grafica, spero un po' bruttino da vedere, ma spero renda il concetto. Se avete questa immagine stampata in testa, per sempre, ripeto, tutto il resto che andrete a fare sarà molto semplice. Perché è difficile vedere, tipo dall'alto, come se fossimo su un drone, il codice. Il codice è codice, sempre con sfondo nero non si capisce. Ma se vedete bene questa immagine e ve la imprimete in testa, ogni cosa che farete, ah, vado a creare il controller per l'utente, vado a creare il model per l'utente, vado a prendere le route che gestiscono gli utenti, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Quindi, guardatela bene, pensateci, noi proseguiamo perché parliamo delle route, effettivamente. Ci vediamo tra poco.